Chardonnay Chardonnay si presenta con un bel colore giallo paglierino, vivace limpidezza e buona consistenza. Al naso si riconoscono profumi di banana, frutti esotici e un sottofondo di mela matura. In bocca è fresco ed elegante, con un finale leggermente ammandorlato. Terra del Lago Rai, una storia di uomini e di vino. Consegnato il cantiere per i lavori di allargamento della SS 47 della Val Sugana. I lavori sono stati consegnati. Ci riferiamo all'intervento di sistemazione e ampliamento della SS 47 in località Ospedaletto tra Barricata Daniedo e Barricata di Soltò. Un cantiere, quello affidato alla ATI guidata dalla Burlon SRL di Telve, per migliorare gli standard di sicurezza, la scorrevolezza del traffico e la qualità di vita di quanti abitano in prossimità di quel tratto stradale. Verrà allargata la carreggiata con accessi diretti e l'esistente erogia a cielo aperto sarà spostata per allargare la piattaforma stradale. Nei pressi dell'ex stazione di Ospedaletto sarà creata una corsia di decelerazione per chi proviene da Bassano ed una di immissione per chi proviene da Ospedaletto in direzione Trento. Saranno posate anche due barriere fonoassorbenti, una vicino alle case in prossimità dello svincolo per Castellivano, la seconda in prossimità dello svincolo per Ospedaletto. Il costo complessivo è di poco meno di 5 milioni di euro, di cui 3,7 per lavori, con il cantiere che resterà aperto circa 21 mesi. Fine lavori previsti per l'inizio primavera del 2020.